partiti Yoseris in vantaggio presto attaccato e superato all'esterno da Vennarecci in terza posizione si è sistemato Eldurazno Cavalli ora prossimi all'imbocco della curva di fondo sempre con Vennarecci leader in seconda posizione ora risale all'esterno Eldurazno nei confronti di Yoseris lungo l'arco della curva non avvengono cambiamenti Vennarecci è sempre leader al suo esterno sempre Eldurazno alle spalle dei due per linee interne rimane Yoseris siamo a 500 dal palo Vennarecci sta allugando progressivamente nei confronti di Eldurazno tra i due ha trovato spazio Yoseris che di slancio si propone in vantaggio superando Vennarecci Yoseris sta allungando a 250 dal palo e ha preso buon vantaggio nei confronti di Vennarecci che subisce l'attacco di Eldurazno che poi rallenta e quindi mentre Yoseris conclude agevolmente Vennarecci è buon secondo davanti a Eldurazno andiamo a rivedere il finale con Yoseris e Carletto Fiocchi a bersaglio abbastanza agevolmente in questa seconda corsa di Napoli il numero 3 Yoseris si impone nei confronti del numero 4 Vennarecci 3-4 quindi il probabile ufficioso arrivo della seconda di Napoli